Ma ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono sempre Anders e ci sono due cose che non vi ho detto nell'altro video che è praticamente massimo 11-12 giugno dovrebbe arrivare la Playstation e qui ragazzi parte il bello perché arriveranno i risultati di angiosti di 4, 4, 4 e 4 e gli stessi creditori quindi poi potete dirmi che se faccio un video sulla Wii voi me lo dovete dire perché io seguo sempre i vostri consigli e quindi facciamo comunque dopo io mi vado a caricare poi guardate che bello il mio vicino, guardate che bello comunque io volevo fare una domanda a voi sul mappamondo allora mi dovete dire qui sotto nei commenti qual è il vostro paese o città preferita e che vorreste visitare allora la mia città e paese preferito è Cina e Giappone adesso vi spiego il perché perché se voi seguite bene la storia cioè nei cinesi arrivò un imparatore si parla di un imparatore che si chiamava Ji Inguondi che è appunto stato proclamato il primo imparatore della civiltà cinese e io adesso vi spiego il perché perché vorrei andare là adesso vi spiego il perché praticamente perché in tutti gli anni della storia Ji Inguondi ha fatto costruire una grande muraglia per difendere la civiltà cinese e quindi io vorrevo andare a visitarla diciamo volevo andare a visitarla e comunque da me è tutto ci vediamo con un prossimo video ciao ragazzi ciao